E' chiaro che la responsabilità non riguarda sugli amministratori, riguarda anche i dirigenti e sono stati coinvolti anche i dirigenti del Comune che chiamati espressamente e concretamente a gestire questa vicenda non l'hanno poi in realtà gestita, tant'è che ad oggi il Comune la collettività ha subito la sovrapposizione, la sovrapposizione, la sovrapposizione, la sovrapposizione